L'Università degli Studi del Sagno si prepara già al prossimo anno accademico e mentre proseguono i lavori di riqualificazione delle strutture universitarie si spera che il nuovo anno consenta di riprendere a pieno con le attività in presenza e il rettore Gerardo Canfora rivolge un appello agli studenti preparatevi ad un anno fatto di condivisione. Ci si prepara con la fiducia che si possa tornare ancora più di quando non sia successo l'anno scorso ad avere tutte le attività in presenza. L'appello che voglio fare ai giovani, ai nostri studenti o a quelli che si accingono a fare la scelta universitaria è proprio quello di dire preparatevi ad un anno accademico fatto di condivisione, fatto di incontro, fatto di lavoro congiunto nelle nostre strutture che stiamo rinnovando per voi, rinnovando e mettendo in sicurezza infatti la città oggi è un cantiere che pulla di iniziative molte delle quali sono proprio finalizzate a mettere a disposizione dei nostri ragazzi ambienti confortevoli e sicuri. Intanto l'Ateneo Sanita si è presto a celebrare anche quest'anno il Graduation Day in programma il prossimo 18 luglio. Presenteremo alla città e al territorio quello che è il nostro principale prodotto, i ragazzi perché le competenze camminano sulle gambe, sull'esperienza, sulla maturità dei nostri ragazzi e poi come dicevo prima ci presentiamo ai nostri iscritti con la convinzione che questo dovrà essere l'anno del ritorno alla piena presenza per tutte le attività.